Stroncato in pochi giorni dalla meningita, un 27enne di Bassano residente a Montebelluna era in vacanza in Toscana dalla fidanzata, profilassi per la famiglia nel Trevigiano e per gli amici nel Vicentino. Fa discutere a Casale la vicenda della famiglia colpita con lo spray urticante, una follia segnalata e ogni movimento sospetto, l'appello della sindaca Golisciani. Perseguitava con chiamate continue e fidinamente, minacce l'ex compagna ora incinta, scatta il codice rosso, 32enne di Cavaso del Tomba denunciato dai carabinieri nel Vicentino. Il bollettino Arfav è ancora confortante, il comune di Treviso anticipa la decisione finale sui panevin, i falò in città, si faranno già contattate le 10 associazioni coinvolte. Lotta al degrado nella quadrante di Piazza del Popolo a Vittorio Veneto, il comune modifica il regolamento di Polizia Comunale per attivare d'aspo urbani. Aperto nel palazzetto dello sport di Castelfranco, il centro notturno di accoglienza per i senza tetto a rischio per il freddo, il racconto di uno dei primi stranieri ospitati, ho rischiato il congelamento. Ambulanti di Veneto e Culi Venezia Giulia soddisfatti per il forte richiamo del presidente Mattarella al governo sul tema delle concessioni, basta con le proroghe, dicono. E' nata Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e di Matteo Giunta, l'annuncio sui social e l'abbraccio del Veneto, le parole del parroco di Montebelluna che l'ha sposata felice, ferilieto e venuto. Ben trovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. E' la cronaca ad aprire questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali con la morte improvvisa, tragica in Toscana di una 27enne residente a Montebelluna a stroncarlo, una meningite fulminante ed è scattata la profilassi anche a Montebelluna. Era partito lo scorso 28 dicembre dalla stazione di Montebelluna per trascorrere il capodanno con la fidanzata in Toscana follonica, Carlo Sivan De Altin, 27enne bassanese di origine ma residente da qualche tempo nella città trevigiana. Un periodo di festa che si è trasformato in dramma. Già il giorno dopo, il 29, il giovane è iniziato ad accusare pesanti sintomi, febbre alta, circa 40 gradi e macchie rossastre e violacee sulla pelle che ben presto da un primo referto si sono rivelate essere delle microemoragie dei vasi sanguini. Da massa marittima De Altin è stato portato all'ospedale centrale di Grosseto dove le sue condizioni sono precipitate, tanto da trasferirlo nel reparto di terapia intensiva, qui espirato il primo giorno dell'anno. Il decesso in base agli esami di laboratorio sarebbe da attribuire a una sepsi fulminante da meningococco ancora in attesa di tipizzazione. Praticamente quindi devono ancora fare tipizzazione del meningococco, comunque sono stati ovviamente informati subito i contatti stretti, è stata fatta quindi un'indagine epidemiologica sia a Grosseto che qua da noi. La profilasse al momento coinvolge da un lato i familiari a Montebelluna con cui viveva, ovvero la madre e il compagno, dall'altro tre amici residenti nel Bassanese dove Carlos aveva mantenuto i rapporti più stretti dopo aver vissuto nella zona di Rosà. Rassicurazioni precise arrivano anche dal sindaco Bordin. Stiamo monitorando la situazione di concerto con l'Ulse, in particolar modo con l'ufficio igiene. Il ragazzo ha avuto dei contatti stretti con poche persone, prevalentemente i familiari, i quali sono già stati sottoposti nei giorni scorsi a profilassi. La profilassi quindi è in corso ma la cerchia dei contatti di fatto è chiusa, resta il cordoglio per una morte improvvisa. Io mando il mio abbraccio virtuale e l'abbraccio di tutta la comunità montebellunese ai familiari di questo ragazzo perché questa è una tragedia ovviamente indescrivibile, quindi questo è il minimo che io possa fare. Ritorniamo a Casale sul Sile per la vicenda che vi abbiamo raccontato ieri sera in apertura, quella giovane famiglia colpita dallo spray urticante, da un soggetto sospetto, una vicenda che ha fatto indignare e discutere, che sta creando una legittima preoccupazione tra i vicini di casa, i residenti. Segnalate ogni movimento sospetto, questo è l'appello della comune di Casale sul Sile, una follia la definisce la sindaca Golisciani. Invito anche questa persona a non ripetere il gesto perché può avere conseguenze particolari sulle persone, stiamo parlando di un bambino di sei mesi. Invito le persone di Casale a segnalare il soggetto, sicuramente è una persona del luogo, quindi non sfuggirà all'occhio delle persone attenti. È un duplice appello quello che parte dal comune di Casale sul Sile, anche se il messaggio è uno solo. L'autore della raid con spray urticante ai danni di una giovane famiglia con il loro cane in via Monte Cervino potrebbe avere le ore contate. In giornata la stessa sindaca Stefania Golisciani ha incontrato Elisa, la mamma che ai nostri microfoni aveva raccontato un'inquietante sequenza di episodi. Il primo il 5 dicembre scorso con bersaglio il cane yuki rimasto accecato per circa mezz'ora, poi il 31 dicembre quando lo spray è stato inalato dall'intera famiglia, compreso il bimbo di sei mesi. La sostanza era diretta all'animale che riuscendo ad abbaiare ha tirato l'attenzione dei proprietari che però ne sono stati avvolti, intravedendo nella concitazione un uomo con cappellino e mascherina a scappare. Per Golisciani il commento è uno solo. Pura follia, sono reati, uno pensa magari di fare una butarda o magari di risolvere dei conflitti che ha magari col vicinato in maniera così veloce, ma in realtà sta commettendo un reato. Golisciani che ricorda come il territorio comunale abbia attivato diverse misure nel tempo. Abbiamo attivato le guardie dell'ambiente che sono appunto delle guardie che girano, fanno dei pattugliamenti, danno anche dei consigli, abbiamo un regolamento per il benessere degli animali, quindi lo sentiamo veramente come una cosa, come dicevo prima, veramente odiosa. Videosorveglianza, controllo di vicinato, testimonianze, tutto a questo punto può servire e aiutare i carabinieri nelle indagini. Quanto ai diretti interessati ora stanno meglio dopo aver contattato anche il centro Veleni con un principio di intossicazione. Intanto grazie a voi per aver diffuso la notizia e mi auguro che non succeda più, ma non solo a me, ma in generale proprio a tutti quanti, proprio perché i poverini cani comunque abbaiano, ma è il loro lavoro e quello devono fare. Resta il fatto che a Casale, sul Sile, soprattutto nella zona di Via Montenero, c'è apprezzazione, c'è preoccupazione, soprattutto tra i vicini di casa e i proprietari di animali. Non riusciamo a capire chi può essere che fa questa cosa, noi stiamo cercando di capire, di monitorare la zona qua, ma è difficile, usciamo la sera, io riesco anch'io a un cane, abito qui anche io, però stiamo cercando anche di capire chi potrebbe essere, perché, anche il motivo di questa cosa. Stiamo monitorando tutto quanto per il discorso, abbiamo paura, insomma, ecco, anche per tutto, insomma. C'è apprezzazione tra i residenti di Via Montecervino e Montenero, in questo quartiere a ridosso del centro di Casale, sul Sile, dove episodi di violenza contro gli animali non sarebbero nuovi. Ci sono stati dei problemi qui al parco, che c'è un parco qua, dove ci sono stati dei casi che buttavano dei bocconi avvelenati, questo è successo circa un anno, due anni fa. Il caso del cane colpito con dello spray urticante, con il coinvolgimento di una giovane famiglia e di un bimbo di sei mesi indigna, e pone anche degli interrogativi. È una vergogna, una vergogna totale, ma anche innanzitutto chi vende queste cose qua? A chi li vendi? Guarda, perché se ti vendi uno spray peperoncino per ammazzarlo o far qualcos'altro, no. Ma chi arriva a questo gesto? Non è una persona umana, non è proprio a posto con il cervello, non si è maltrata, né persone, né tanto meno animali, mai. È bene sempre sollecitare l'opinione pubblica di queste cose, in maniera che la gente si aiutino tra di loro per individuare questa gente che evidentemente ha qualche problema, insomma. Quindi fate bene a fare questi servizi. Sicuramente è un atto di grande inciviltà. Parliamo adesso di violenza di genere in una marca ancora sconvolta per la tragica fine, la mattanza di Vanessa Ballan. Un 32enne di Cavaso della tomba è stato denunciato e grazie al protocollo del codice rosso non potrà più avvicinarsi all'ex compagna. Perseguitava la ex con chiamate e messaggi, minacciandola e appostandosi nei pressi della sua abitazione e dei luoghi che frequenta, fino a quando la donna, in stato di gravidanza, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. I militari della stazione di Romano Dezzelino hanno denunciato per atti persecutori un 32enne residente a Cavaso del tomba che non voleva accettare la fine della sua relazione con la giovane trasferita sia Romano Dezzelino. I comportamenti dell'ex erano diventati sempre più oppressivi da ottobre, culminando il primo dell'anno con un messaggio nel quale annunciava la donna la volontà di recarsi a casa sua per parlarle. Spaventata da questa evoluzione di una situazione già pesante, la malcapitata si è rivolta ai carabinieri e una pattuglia è subito uscita intercettando lo stalker proprio nelle vicinanze del domicilio della ex. È scattato quindi il protocollo codice rosso e il 32enne è stato sottoposto alla misura precautelare personale che prevede il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi frequentati dalla giovane donna. Non potrà neppure chiamarla o contattarla in alcun modo. La cronaca ci porta sulle strade della marca Trevigiana, 34enne di Asolo, grave in ospedale dopo essere finito fuoristrada con la sua auto ieri sera. L'incidente alle 21 in via Solana a Fonte, l'auto dopo una serie di carambole finita ribaltata su un fianco nella piazzola di sosta della Corriera a lato della Careggiata. Il personale del suo M118 ha trasportato il 34enne all'ospedale in codice rosso. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Il veicolo ribaltato è stato messo in sicurezza dalla personale dei vigili del fuoco. Non risultano altri veicoli o persone coinvolte nello schianto. E torniamo al tragico schianto di ieri, del pomeriggio di ieri a Zoppola. La comunità di Pinzano, all'attagliamento, ha deciso di fermarsi in ricordo di Graziella Mander, la volontaria della Croce Rossa italiana deceduta. Intanto la collega che era con lei, Cristina, è stata ascoltata. Fondamentale sarà la sua testimonianza. Grazie a tutti. È accaduto in quel tratto di strada la testimonianza della 64enne conducente del SUV che non è riuscita ad evitare l'impatto con l'ambulanza dopo che questa si era scontrata contro il camion. Il comune di Pinzano, al tagliamento, ha proclamato lutto cittadino. Graziella, ricorda il sindaco, era una colonna della nostra comunità. Nel periodo Covid il suo apporto è stato fondamentale. Pietro Fortunaso, presidente della Croce Rossa di Spilimbergo e Maniago, non commenta le prime indiscrezioni emerse, secondo le quali sarebbe stata proprio l'ambulanza ad invadere la careggiata opposta impattando contro il camion. I due mezzi sono già stati posti sotto sequestro. Sono 22 anni che guidavo l'ambulanza, era un'autista esperta. Ancora non sappiamo le dinamiche dell'incidente preciso, però c'è la testimonianza del secondo volontario che era in quel momento a fianco dell'autista. Non si ricorda molto bene, però le forze donne l'hanno già interrogato. Graziella Mander faceva anche parte del consiglio del comitato che proprio oggi per lei si è riunito. Parla di grande famiglia della Croce Rossa invece la nuova presidente del comitato di Treviso, Simona Cardarelli, che subito alla notizia dell'incidente si è messa in contatto con i colleghi del vicino Friuli. Tutti i volontari le augurano un buon viaggio e la ringraziamo per tutto quello che ci ha regalato in questi 20 anni. Tra l'altro, proprio per questi eventi traumatici, Croce Rossa ha tra i tanti obiettivi e le tante attività che svolge anche l'attività di supporto psicologico, i nostri operatori seppi, i nostri psicologi. Quindi anche dal nazionale, essendo una regione limitrofa, sono stati allertati quelli che potevano essere gli eventuali supporti e interventi da parte dei nostri operatori. E ritorniamo sulle strade della marca trevigiana. Questa mattina nella cintura urbana di Treviso ci sono stati momenti difficili per uno sversamento di gasolio, caos, viabilità. Emergenza sversamento gasolio nei comuni di Villorba e Paese. Diversi automobilisti hanno segnalato a carabinieri e polizia locale la presenza di una lunga scia di gasolio in via Scattolonna, via della Cartiera, lungo la Provinciale 102, in via Postioma e lungo la Feltrina. Dalle segnalazioni è emerso che il carburante è stato perso da un auto articolato che aveva fatto rifornimento presso un distributore in via Scattolonna. Le forze dell'ordine intervenute hanno provveduto a mettere in sicurezza la viabilità mentre una pattuglia dei carabinieri di Montebelluna ha intercettato un camion lituano in zona signoressa con il serbatoio del carburante danneggiato. La viabilità è stata ripristinata regolarmente. Veniamo a un aggiornamento di queste ore, di questi minuti. C'è il via libera definitivo per i panevina di Treviso. Il bollettino Arpava conferma il livello verde di allerta dall'amministrazione, quindi l'ok, a tutte le dieci associazioni che avevano fatto richiesta di accensione del falò la notte del 5 gennaio. Questi gli aggiornamenti di Edi Calimano. Via libera definitivo per i tanto attesi panevina della città, a dirlo l'assessore all'ambiente del comune di Treviso dopo i dati dell'ultimo bollettino Arpava. Dopo che la qualità dell'aria delle scorse settimane aveva spinto il sindaco Conte a dirsi poco fiducioso tanto da fare intendere lo stop e lasciare in sospeso la decisione, gli ultimi dati Arpava hanno confermato invece il trend positivo degli ultimi giorni. C'è arrivato il comunicato oggi che siamo ancora in fascia verde, vista la piovosità e la ventosità degli ultimi giorni, quindi possiamo dar via libera i panevina, sono circa dieci in tutto il comune sparsi nelle varie parrocchie o nelle varie associazioni. A contribuire al miglioramento della qualità dell'aria le piogge delle scorse ore. Le piogge in questi giorni hanno battuto i PM10, la previsione dei prossimi giorni dà un valore costante di polveri sottili e quindi Arpava ci ha detto che in questa situazione rimaniamo in allerta verde e in allerta verde è possibile farli. Sollievo dall'amministrazione dopo i divieti forzati dello scorso anno, dove gli sforamenti di PM10 superavano di gran lunga il valore soglia di 50 microgrammi al metro cubo. Siamo i primi che godiamo molto nell'andare ai panevina, infatti ne siamo sempre presenti. È chiaro che quando dobbiamo incrociare un dato di salute pubblica, come è stato l'anno scorso, rispetto a fare i panevina, chiaramente la salute pubblica viene prima. Quest'anno le condizioni meteo e le condizioni climatiche ce lo permettono e quindi con i dati ufficiali di Arpa siamo in grado di dire ok. Quindi il comune di Treviso sui panevina ha già sciolto le riserve, questo lo avete sentito l'annuncio ufficiale. Noi rimaniamo in centro a Treviso per parlare di sicurezza. Ieri sera con un altro annuncio, quello del comandante Andrea Gallo, vi avevamo riferito di 60 telecamere pronte ad arrivare nel quadrante caldo di Piazza Borsa, questo per contrastare il fenomeno delle baby gang e non solo. Abbiamo chiesto l'opinione dei trevigiani. Buona idea quella delle telecamere, penso che sia un buon deterrente, me lo auguro perlomeno, così chissà che possiamo andare in giro in santa pace. Sono troppi ragazzi, gruppetti, che si deve aver paura. Lei viene a fare la spesa qui e come si sente? Specialmente il sabato mi sento insicura perché è proprio qua che arrivano. Per il resto insomma mi adatto, sto attenta. Servono anche quelle, ma in minima parte sempre con la presenza di polizia nel luogo, mettere le telecamere, si arrangiano le telecamere, non è possibile. Venendo da queste parti non siamo assolutamente sicure e direi che se vengo a fare la spesa verso sera, perché magari non ho altro tempo, ho una certa difficoltà a passare di qui. Secondo lei queste telecamere possono essere una soluzione? No, non è una soluzione, è anche una soluzione. Evidentemente ci vogliono tante altre cose, ad esempio bisogna aumentare il numero di vigili, della polizia, eccetera. Ci deve essere una maggior presenza delle forze dell'ordine, ma anche questo non basta. Cioè non questa è solo repressione e invece ci vuole la prevenzione, che è una cosa importantissima. Fa bene, tutto fa bene, va bene per le donne specialmente. Aver paura magari di avere la borsa così, indossare qualcosa che non ti senti... Non dico protetto perché è quello, è neanche tutelato, però nella nostra città non eravamo abituati a questo clima. Maggior controllo quindi la farebbe sentire più tranquilla? Per me sì, cioè se mettono le telecamere ovunque, ho visto che tra l'altro sono servite in molti altri casi, non tanto solo di delinquenza, ma anche di persone scomparse, eccetera. Si vedono, riescono a trovare le inquadrature giuste per scoprire qualcosa, per me benvengano. Non mi sento limitata nella mia libertà, anzi. Quando ci avviciniamo alle stazioni, sempre, e anche a Treviso, vedo che insomma andrebbe bene, andrebbe tutelata. Quindi queste telecamere potrebbero essere utili? Per me sì, sono d'accordo. I temi della sicurezza e della lotta al degrado ci portano in un altro quadrante, quello di Piazza del Popolo, dei dintorni a Vittorio Veneto, dove il sindaco ha modificato il regolamento di Polizia Comunale per poter poi procedere con i daspo urbani. La stretta del comune di Vittorio Veneto contro vandali e sbandati. Dal 2024, grazie ad una modifica del regolamento di Polizia Comunale, il comune ha la facoltà di attivare daspo urbani. La possibilità di emanare dei daspo. Per far questo bisogna definire quelle che sono le aree della città maggiormente frequentate da certi individui, un pochettino così, ai margini della nostra società, un po' sbandati. Interdire l'accesso alle aree più calde di Vittorio Veneto. Stazione, parcheggi sotterranei, certe aree anche lungo la ciclabile. Naturalmente dopo il daspo non è che si apri per qualsiasi cosa. Sono già diversi i soggetti noti e schedati, non solo alle forze dell'ordine ma anche al comune. Almeno una ventina sono del Vittoriese e un'altra dozzina viene da fuori comune. Uno strumento in più in mano alla polizia. Diverse le testimonianze dei cittadini, la percezione di sicurezza sul territorio. Armando, scippato vicino casa, racconta. Era di giorno, era verso le 10 di mattina, due marocchini, penso marocchini perché dalla carnagione è anche così. Allora mi hanno rubato il borsalò, ma per fortuna i documenti li avevo a casa, per fortuna. Erano in due di loro, no? E sono grappati proprio. Sono venuti dietro, non mi sono neanche accorto io perché camminavo piano. Fino adesso io non ho avuto mai problemi. Secondo me siamo tranquilli. Ci sono delle persone che girano che ti danno dell'inquietudine. A me creano dell'inquietudine, non dico altro. Se ci sono cose che non vanno bene è giusto che siano allontanate. Siamo come in un'isola deserta un po', ma un po' felice rispetto a tante altre. Chi frequenta assiduamente l'area del quadrilatero conferma però la presenza di giovani che ci sono macchiati di svariati atti di vandalismo. Si ubriacano, fanno risse, rompono le cose che ci sono in giro e fanno le cose da ragazzi che non devono fare. Andiamo a Castelfranco Veneto dove è stato aperto nel palazzetto dello sport il centro notturno di accoglienza per i senza tetto a rischio per il freddo. Ho rischiato il racconto di uno dei primi stranieri ospitati. Ho rischiato il congelamento. Queste le parole, lo sfogo raccolto dal nostro Nicola Marcato. Lei è stato ricoverato in ospedale. Si è stato male, colpa di Alfredo. È stato male, eri stato pronto scorso di Montebellone. Ma lei fino ad oggi dove dormiva? Dove trovo? Quasi tre mesi che io dormo fuori adesso. A parlare, un cinquantenne di nazionalità marocchina rimasto senza lavoro e casa, appena arrivato nel centro notturno di accoglienza presso il palazzetto dello sport di Castelfranco. Qua, così non dormono uno vicino all'altro. Va bene, grazie. In questo centro d'emergenza trovano per ora rifugio sette senza tetto. L'iniziativa è nata dopo la tragedia di Treviso, dove un trentenne era morto stroncato dal freddo, mentre si trovava nel suo giaciglio di fortuna nel parcheggio della cittadella Piani. Non potevamo rimanere indifferente, per cui insieme a coordinamento abbiamo coinvolto l'amministrazione comunale per permetterci di, almeno in emergenza, in questi mesi più freddi, poter ospitare chi è senza tetto e senza casa. Volontari, associazioni di cittadini, la mensa della Caritas, la parrocchia del Duomo, proprietaria dei locali sotto il palazzetto, grazie al sostegno dell'assessorato ai servizi sociali del Comune, si sono subito attivati per dare conforto alle persone che vivono in situazioni precarie. Dare una mano ai meno abbienti e quindi dare un letto a chi non ce l'ha è una cosa meravigliosa proprio in questo periodo di grande freddo. Sono quasi i 40 i volontari che si alternano per dare una mano anche per i turni di notte. Noi daremo un contributo per tutte le spese che avverranno, ma la cosa importante è che ci sono stati veramente decine di volontari che gestiranno le prossime notti. Una città che vuole essere solidale non può lasciare le persone al freddo in questo momento, quindi è un atto di civiltà e Castelfranco dimostra di essere una città sensibile e accogliente. Grazie. Un appetito. Grazie. Il servizio funzionerà ogni giorno a partire dalle 19 quando verrà servita la cena nei locali attivi dove opera la mensa della Caritas. Poi gli ospiti potranno andare a coricarsi. La povertà è in aumento anche fra gli italiani, molti di loro però non si presentano per la vergogna, mettendo a rischio la propria vita. Per il futuro l'amministrazione ha deciso di trovare degli spazi dove ospitare gli invisibili senza alcuna distinzione. Il progetto si chiama Casa Cattani all'interno dell'ambito SISUS, che è lo sviluppo urbano sostenibile, dove andremo a realizzare di posti letto in emergenza. Questo dunque il racconto di Nicola Marcato. Noi siamo pronti ad aprire la pagina dell'economia, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta dicevamo i temi dell'economia. In queste ore a livello nazionale si parla del DDL concorrenza, il tema delle concessioni demaniali e delle concessioni per gli ambulanti. C'è il richiamo forte, fortissimo, del Quirinale, del Presidente Mattarella. Ebbene, in tutta questa discussione c'è la voce degli ambulanti del Veneto, che dicono basta altre proroghe. Noi stiamo perfettamente d'accordo con il Presidente della Repubblica, perché è stato un DDL, ne abbiamo discusso direttamente con Bitonci del Ministero, lo avevamo avvisato che una cosa così sarebbe stata impugnata in qualche maniera, lo ha fatto direttamente il Presidente della Repubblica. Soddisfazione della categoria degli ambulanti del Nord-Est per il richiamo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul tema delle concessioni contenuto nell'ultimo DDL concorrenza. Nel mirino del Colle le norme che prorogano i permessi per il commercio ambulante, che porta a precarizzare il lavoro. Noi siamo 180.000 aziende in Italia, siamo 180.000 aziende che sono ferme dal 2010, anno del ricepimento della direttiva Bolkestein. Da quel momento lì siamo sempre andati avanti con proroghe, 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 proroghe. Lei capisce bene che con una proroga di un anno, due anni, io non posso poter investire in autoveicoli, in personale, in magazzini, in scorti di merce. Devo vivere la giornata. Una direttiva del 2010, la Bolkestein, che mira disciplinare la concorrenza all'interno di uno Stato, nata per regolamentare i settori legati alle concessioni pubbliche, commercio ambulante, gestione di aree balneari, e nei quali le continue proroghe, come quella stabilita dall'ultimo disegno di legge, stanno di fatto rendendo complicati gli investimenti a lungo termine degli operanti nel settore. Con sequenza di tutte queste proroghe, i mercati si stanno svuotando, perché nessuno, piuttosto di investire al buio, preferisce cambiare mestiere. Quindi basterebbe semplicemente mettere a bando quelli che sono i posteggi vuoti nei mercati, riqualificandoli, riportando la gente al mercato, che crea sicurezza, aggregazione, pulizia e vitalità dei sensi storici. Queste le richieste da parte degli ambulanti del Nord-Est, che dopo la notizia della missiva di osservazione inviata al Parlamento e al Governo, sono in fermento e chiedono di essere ascoltati. Portare avanti quella che si è una riforma del settore, in cui il settore viene blindato con i rinnovi, è una vera e propria riforma, che ci permetta come categoria di poter ricominciare a reinvestire nel proprio nostro lavoro. Ci aspettiamo che si apra un tavolo, in cui ci si possa sedere con persone competenti e si possa prevedere un percorso per questa categoria. Le pagine del gossip, della cronaca rosa, ma non solo, anche dello sport parlano tutte della nascita di Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e di Matteo Giunta, l'annuncio sui social e l'abbraccio collettivo comunitario del Veneto. Tra i tanti messaggi di auguri, quello dell'attuale parroco di Montebelluna, per tanti anni, sacerdote a Spinea, che ha sposato la coppia a Venezia nel 2022. I volti sorridenti non tradiscono l'emozione, ma nemmeno la fatica. Sono stati due giorni complicati, scrive Matteo Giunta, appena diventato papà della piccola Matilde. E così il 3 gennaio, le ore 6 e 51, Federica Pellegrini, la nostra campionessa, volto noto e amato in tutta Italia, è diventata mamma. A salutare il lieto evento sui social decine di post. Un pensiero per la coppia, arrivato dal presidente del Veneto, Luca Zaia, e dalla premier, Giorgia Meloni. La piccola, nata in buona salute, è venuta alla luce all'ospedale Sacro Cuore di Negrar, Meringhetta, così si rivolgevano a lei ancora in pancia. A Matilde, Federica aveva dedicato un pensiero nei giorni immediatamente successivi alla tragedia di Giulia Cecchettin. Ti costringerò a sentirti libera in ogni passo, aveva scritto su Instagram. Federica e Matteo, un amore nato nel 2017, lui l'allenatore, lei l'allieva. Una storia tenuta a quanto più possibile lontana dei riflettori. Matteo la porta all'altare il 27 agosto del 2022, ad unire in matrimonio la coppia nella chiesa di San Zaccaria a Venezia, Monsignor Antonio Genovese, oggi parroco a Montebelluna, ma per tanti anni a Spinea, dove ha visto crescere Federica e che oggi ha partecipato alla gioia della coppia. Intanto che è arrivata, quindi ben arrivata da noi, è un augurio cordialissimo, e felicitazioni alla Federica e anche a Matteo per questo evento così bello, atteso e anche bello. Credo che essere mamma ed essere papà sia un dono grandissimo, oltre che anche una grande responsabilità. Non sarò io a battezzare Matilde, chiarisce, spero lo farà il parroco della loro comunità. Ricorda Federica però, è la sua grande forza di volontà. Aveva le doti, ma anche sacrificato, perché mentre gli altri si divertivano, lei era in piscina a nuotare fin dal mattino presto, quindi una grande campionessa. E adesso è cresciuta insieme a Matteo, sono cresciuti, auguro davvero che crescano davvero in armonia, in amore e affetto per crescere insieme anche la piccola. E noi adesso andiamo a Belluno. La politica in primo piano con i fuochi d'artificio e non sono di Capodanno in casa Lega dopo l'attacco sferrato a mezzo social dall'ex deputato Trevigiano Giuseppe Paolina all'assessore regionale Gian Paolo Bottaccina Reo di aver condiviso il disagio della collega Roberto Marcato. Il tema oggi al centro è, come ha detto Marcato in un'intervista recente in un giornale, vorremmo capire se questo partito è ancora la nostra casa oppure no, perché facciamo fatica a riconoscerci e non abbiamo risposte e questo credo sia abbastanza grave. Prima di parlare di trasloco bisogna trovare la casa giusta e quella per Gian Paolo Bottaccina, Federico Canera e Roberto Marcato al momento non è detto possa essere la magione offerta dal coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi. Il toto scommesse va avanti da mesi imperscruttabile fino a ieri l'assessore regionale bellunese Gian Paolo Bottaccina ha deciso di mettere nero su bianco le ragioni del suo malumore che sono di natura politica e amministrativa. Lì elenchiamo per scelta della segreteria regionale nessun bellunese è stato candidato alle politiche e avevamo due parlamentari uscenti poi uno purtroppo è mancato ma avevamo due parlamentari da due parlamentari a non dico un parlamentare ma anche un candidato presente è un fatto estremamente grave io vorrei una risposta chiara su questo lo dico da bellunese prima ancora che da leghista poi il direttivo provinciale di Belluno visto come era stata presa a Berle la provincia di Belluno ha chiesto un sottosegretario per compensare la mancanza di un parlamentare non mi risulta sia neanche arrivata una risposta in questo senso. Nell'elenco c'è la nomina della presidenza del fondo dei comuni di confine storicamente assegnata a esponente dello stesso partito del ministro ma al fondo Calderogli ha disegnato Dario Bond che pur bellunese oggi è di Fratelli d'Italia questo per quanto riguarda i temi politici poi ci sono le questioni che si intersecano con l'ambito amministrativo come quella dell'idroelettrico. Vorrei capire qual è la linea di questa segreteria visto e considerato che sui riparti dei vigili del fuoco volontari la giunta è andata sotto in commissione Uno smacco alla lega bellunese senza precedenti per Bottacini che da 14 mesi chiede risposte a un partito silente a interloquire via social con l'assessore ci ha pensato l'ex deputato trevigiano del Carroccio Giuseppe Paolin Ho fatto la disanima di cosa ha avuto Bottacini ha fatto tre giri in regione trovate l'assessore ha fatto il presidente di provincia tra l'altro è riuscito a farli mandare a casa quindi non riesco a capire dov'è lo scandalo cioè di cosa stiamo parlando io quello che dico da militante leghista è dico se questi signori vogliono andare le porte sono aperte come le sempre fatte in vega L'attacco sferrato da Paolina Bottacini su Facebook a una trentina di like e una condivisione non pubblica non scalfisce l'assessore Mi hanno fatto un po' sorridere quelle considerazioni che ho visto di Paolin lo dice lui che è la Lega dei problemi Per l'ex parlamentare della Lega il partito non è allo sbando Paolina afferma ci sono alti e bassi e vanno amministrati Per me esiste una disciplina di partito un mettersi a disposizione del partito Il partito fa delle valutazioni per mettere in campo la squadra migliore Si tratta di far politica di parlare di proporre le proprie idee ma non è quello che stanno facendo soprattutto Bottacini e Canera E la politica belunese intanto è in lutto per la morte di Mario Svaluto Moreolo protagonista della politica provinciale negli ultimi 50 anni prima nella democrazia cristiana poi nel partito democratico che oggi ricorda il suo maestro ironico Caparbio con una grande passione Svaluto Moreolo aveva 86 anni amava la sua città e ha sempre ritenuto che la politica se interpretata in modo onesto rigoroso intelligente potesse fare la differenza voce attiva e impegnata nella politica cittadina Mario Svaluto Moreolo è stato assessore comunale di Belluno dall'88 alla 90 e poi ancora dal 90 al 92 annota il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin e al primo cittadino si unisce il ricordo commosso del presidente della provincia Roberto Padrin disvaluto Moreolo politico ma anche ex calciatore con un passato da portiere nella C. Belluno il cordoglio è anche della Lega cittadina con il suo segretario Paolo Luciani se ne va un avversario onorevole un uomo determinato riferimento politico capace di portare sempre avanti le proprie idee così dunque il lutto della politica bellunese e noi saliamo in cadore a Cortina non di solo Bob vivrà a Cortina da un pezzo posto che il progetto venga realizzato e così il sindaco Gianluca Lorenzi ha inviato una PEC al commissario di Simico la società delle infrastrutture Luigi Valerio Sant'Andrea fateci sapere ITER e tempistiche dei cantieri il messaggio contenuto nella PEC come ci racconta Tiziana Bolognani abbiamo chiesto in maniera diciamo molto garbata com'è il rapporto diciamo con Simico di avere le tempistiche dei cantieri e quando verranno aperti e soprattutto quando saranno terminate le opere urge fare il punto della situazione perché le Olimpiadi 2026 non sono e potrebbero non esserlo solo Bob Slittino e Scheleto nei tempi si stanno stringendo sempre di più il primo cittadino di Cortina lo sai non vuole rischiare che la regina ma nemmeno l'Italia facciano una brutta figura la PEC a Luigi Valerio Sant'Andrea commissario di Simico è partita ieri perché ancora di cantieri non c'è traccia e si parla del fulcro di quel che saranno i giochi olimpici a Cortina dal punto di vista della parte infrastrutturale quindi di viabilità della via delle guide del nuovo impianto di risalita che è un progetto di finanza che dovrebbe collegare il centro a Socrepes e poi con un tunnel in Corso Italia che è la vera opera iconica che Cortina si aspetta la parte diciamo di viabilità lungo Boite la diciamo ridonalizzazione di via Cesare Battisti la ristrutturazione conservativa del trampolino la sistemazione e adeguamento dell'impianto diciamo dello stadio del ghiaccio e più una riqualificazione della piazza ex mercato sono tutte opere e strutture essenziali previste per l'evento olimpico e quindi di fatto è arrivato il tempo di vedere partire i lavori di avere contezza di quando inizieranno e di quando finiranno il tempo se ne è passato tanto si è discusso tanto le conferenze di servizi sono andate diciamo tutte per la strada giusta oggi è il momento di fare il punto sulle cantierizzazioni e vedere i cantieri partire in attesa che si concluda la telenovela da Bob il bando di gara per la realizzazione del Budello Light pubblicato lo scorso 29 dicembre scade il 18 gennaio ma sarà il CIO a fine mese a scrivere la parola fine e a proposito della vicenda della pista da Bob oggi parlano i tre segretari di CGL Cisle Will di Belluno una storia dalle connotazioni grottesche per quanto purtroppo reali scrivono Denise Casanova Massimiliano Paglini e Sonia Brida stiamo dalla parte del CIO che crede fermamente che il numero di impianti esistente sia sufficiente per il numero di atleti e di gare e che solo gli impianti esistenti e già operanti possano essere considerati a causa dello scarso tempo che rimane per i giochi 2026 a oggi proseguono i tre segretari di CGL Cisle Will l'unica certezza è che per fare in fretta e contenere i costi si ripropone il criterio del massimo ribasso e cioè con scarse garanzie per la sicurezza dei lavoratori e il rispetto dei contratti collettivi e una consapevolezza senza il Bob per Cortina si rischia una compartecipazione ai giochi mentre con il Bob l'ennesima opera faraonica ad 80 milioni di euro senza certezze di eredità sviluppo e prospettive per il territorio quindi un messaggio molto chiaro da parte sindacale ci eravamo lasciati qualche giorno fa con le immagini di un cervo davanti al banco di un ambulante a Cortina quelle che vi mostriamo ora invece parlano di uno scampato pericolo corso da due automobilisti in transito sulla strada che da Meano di Santa Giustina porta a Paderno in comune di San Gregorio nelle Alpi un'auto rallenta la camera di uno smartphone si accende per riprendere la corsa di un cervo sul prato prospicente la strada lo vedete questione di pochi pochissimi secondi qualche frazione il cervo probabilmente spaventato spicca un incredibile balzo per superare non solo la strada ma anche il fossato inutile dire che il video postato dall'automobilista in questione su Facebook è diventato virale in mena che non si dica fortunatamente non si è fatto male nessuno neppure il cervo che atterra scomposto ma che si rialza per raggiungere un luogo decisamente più sicuro queste le immagini che vi mostriamo tradizione e solidarietà si incontreranno la mattina del 6 gennaio in piazza dei martiri a Belluno ritorna infatti la Befana del Vigile l'evento filantropico promosso dall'automoto dall'automotoclub storico italiano e comune di Belluno che raccoglierà numerose donazioni di genere alimentari da destinare alla parrocchia dei frati di Mussoi i regali arriveranno a bordo di tradizionali autodepoca che sfileranno per il centro storico e si fermeranno sull'Iston per essere ammirate dai cittadini la partecipazione è stesa anche e soprattutto ai bambini poiché a coronare i festeggiamenti ci sarà la Befana inmancabile carica delle tradizionali calze piene di doni così dunque la mattina del 6 gennaio in piazza dei Martiri a Belluno e noi siamo come sempre alle battute conclusive vi mostriamo i vostri presepi le feste non sono ancora finite quindi prima di lasciarvi al meteo vi mostriamo le creazioni di Caterina da Follina la famiglia Bassanello di Treviso Giulio Milanese di Paese e Sergio Furlan di Campo di Pietra siamo a Salgareda vi lascio quindi con queste immagini buona serata a Salgareda a Salgareda Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Ben trovati al meteo. Ultimo giorno in compagnia dell'alta pressione che inizia a diminuire. Nel weekend dell'epifania un'intensa perturbazione darà il via ad una fase di maltempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 4 gennaio evidenzia un tempo stabile. Avremo un'alternanza di nuvole e locali rasserenamenti con nebbie sparse di notte in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Più soleggiato in montagna. Temperature stazionarie minime tra 1 e 6 gradi, massime tra 6 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà asciutto, tuttavia sulla zona montana il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso. In pianura e sulla costa locali nubi basse nelle ore più fredde e qualche schiarita a seguire. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato al mattino ma con nuvolosità irregolare nel pomeriggio. Temperature minime tra meno 2 e 1 grado, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Soluzioni per star bene.